Cosa vuol dire avere una respirazione funzionale? La respirazione svolge tre funzioni fondamentali. Introdurre l'ossigeno nel nostro corpo, espellere l'anidride carbonica in eccesso, contribuire a mantenere il pH sanguigno entro valori normali. I pilastri di una buona respirazione sono tre. Un diaframma che lavori in modo corretto, quindi il muscolo respiratorio primare della respirazione che lavori bene. La respirazione nasale e infine il corretto volume e la corretta frequenza respiratoria. Nel prossimo video andrò ad approfondire ognuno di questi pilastri perché conoscere un po' di anatomia, un po' di fisiologia, ci permetterà di respirare al meglio. È un po' come un atleta che si prepara ad un'alta prestazione. Conosce bene la tecnica e la ripete, la ripete, la ripete, più e più volte affinché diventa un automatismo. Con la respirazione è la stessa cosa. Dobbiamo conoscere più o meno come funziona l'anatomia, come è l'anatomia, come funziona la fisiologia, e ripetere più e più volte il gesto. Più informazioni diamo al nostro cervello e più questo lavorerà al meglio, farà lavorare al meglio il nostro corpo. Come diceva Aristotele, siamo ciò che facciamo ripetutamente, quindi se ripetutamente correggiamo il nostro gesto respiratorio e diamo più informazioni al nostro cervello, automaticamente questo migliorerà e migliorerà la nostra salute.